Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Micelia, è un gioco competitivo da 1 a 4 giocatori dai 9 anni in su. Della Ravisburger, veramente molto interessante ed è un gioco deck building veloce e appunto, come detto poc'anzi, come riporta la scatola dai 9 anni in su. Quindi qui ci potrete far giocare chiunque seduta al tavolo, anche dei ragazzini molto giovani. Ed è un gioco veramente interessante, veloce e il regolamento sono due pagine. Tolto il setup, veramente uno scherzo, due pagine. E tra l'altro all'interno della scatola ci sono i manuali in varie lingue. Quindi è stato tradotto in tutte le lingue possibili. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Micelia della Ravisburger, come detto prima della sigla, è un gioco competitivo da 1 a 4 giocatori, tutto quanto basato sulla raccolta di rugiada per portarla in un tempio, in una struttura principale. E alla fine del gioco, chi sarà riuscito a liberare tutta la sua area di gioco dalla rugiada, avrà vinto la partita. È un gioco ovviamente che, anche le carte, un po' lo stile e tutto quanto, è ambientato in un bosco fatato, dove il tema principale sono appunto la rugiada e i funghi. Infatti anche i personaggi, gli eroi, i campioni che potete sbloccare, saranno sempre appunto dei funghi, o comunque sempre qualcosa di simile, collegato al bosco. Ed è un gioco molto veloce nelle regole, perché veramente il regolamento è piccolissimo, e come potete vedere ora a video, a parte il setup iniziale, ha veramente due pagine praticamente di regole, più regole opzionali in descrizione delle carte, ma quella è tutta quanta roba opzionale. Il gioco è molto veloce, come dicevo poc'anzi, è un gioco competitivo, dove all'inizio avremo un set di carte personalizzato, e sopra ciascuno di essi c'è un simbolo. All'inizio ciascuno sceglie un simbolo e dà il suo set di 10 carte personalizzato, e ne dovrà pescare 3, per ogni turno da tenere in mano, appunto come detto, del suo set personalizzato. E queste carte ci daranno la possibilità di fare delle azioni sulla nostra plancia di gioco, dove all'inizio ci sarà un setup iniziale che ci dirà dove mettere le gocce di lujada, e sempre sulla plancia di gioco, che ognuno ha la sua, non è una unica generica, ci sarà anche segnato il simbolo di questo tempio, o di questa struttura mistica, dove voi dovrete andare a portare appunto le gocce di lujada. Che si giochi in due giocatori, in tre giocatori, o in quattro giocatori, ovviamente le gocce di lujada che vanno portate per riempire questo tempio sono sempre di più. Il funzionamento del gioco vuole che ci sia anche una scelta del bosco, che è un pool di carte comune, un market, che voi potrete acquistare, spendendo appunto le foglie, e andando a comprare queste carte pagandole in foglie, che le foglie le guadagnate giocando le carte gratuite che avete in mano, se sopra hanno il simbolo della foglia, potrete prenderle e aggiungerle al vostro mazzo. Qui appunto viene fuori il lato deck building del gioco, quindi si parte tutti con un set di carte basilari e comuni e si vanno alla fin fine a prendere sempre più carte e a reinvigorire il nostro mazzo. Si possono giocare tutte, anzi si devono giocare o scartare, tutte e tre le carte che abbiamo in mano e lo scopo del gioco è semplicemente prendere le gocce di lujada e portarle nella struttura, come ho detto, del tempio. Ci sono delle regole dove magari dicono puoi spostare una goccia di lujada in una zona d'acqua, oppure puoi spostare ortogonalmente una goccia d'acqua di lujada in qualsiasi posizione, oppure direttamente non la sposti ma la togli dal tavolo e la metti nel tempio. Quando si arriva nella fase del tempio, si prendono le gocce di lujada e si mettono in uno slot vuoto. Quando tutti quanti gli slot del tempio sono completi, il tempio si gira, gli slot vengono completamente svuotati del tempio e si va a tirare il dado che c'è sopra. Si tira il dado, si guarda il simbolo che esce sul dado, si va a identificare quel simbolo sulla mappa di gioco per dove nelle varie aree di giocatori sponeranno altre gocce di lujada e per ciascuna zona con quel simbolo si prende una goccia di lujada e si mette lì, su ciascuna area di gioco o personale dei giocatori. Lo scopo del gioco è quello che ciascun giocatore sulla sua plancetta non deve avere più gocce di lujada, le deve togliere tutte. Quindi deve riuscire con le carte che ha in mano, le combinazioni, gli eroi e tutto quanto a togliere tutte le gocce di lujada e portarle al dietro il tempio. Quando finisce il turno, o per meglio dire il round, e un giocatore non ha più gocce di lujada, si finisce il round corrente, finito il round corrente ha vinto la partita. Oppure, se due giocatori riescono a eliminare tutte quante le gocce di lujada si va a vedere un pochino più chi aveva più carte in mano e cose del genere. Quindi vince chi pulisce la propria area di gioco dalle gocce di lujada. In conclusione, Micelia, che poi, piccola parentesi, spero non si pronunci mai Celia ma penso di non dovrebbe essere Micelia, è un gioco molto interessante, competitivo, deck building, che a me personalmente un po' di deck building piace anche in questo tipo di giochi perché se fatti bene, come in quello del Signore degli Anelli, ad esempio, sono anche interessanti. Quindi ha delle meccaniche veloce e carine e poi nove anni o più. Qui davvero ci fate giocare chiunque perché alla fin fine è una carta, si va a vedere semplicemente cosa fa quella carta all'azione e si gioca. E basta, devi levare le gocce di lujada e metterle nella struttura principale. Quindi come gioca anche è molto veloce. Io ringrazio la Ravensburger per avermi offerto questa copia per la recensione. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovimpressione, dal nostro negozio sponsor Giocoliberia Semola. Non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito Micelia non è presente, oppure Bollino Rosso, le copie in magazzino sono finite, mandate una mail al supporto della Giocoliberia Semola tramite sito e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Giocoliberia Semola farà il possibile per ordinarvelo, se è reperibile, anche se è un gioco che viene dall'estero, e questo caso qui ovviamente non lo è, è edizione Ravensburger italiana, non solo se è finito, ma anche se non c'è in catalogo. Quindi se avete visto nel mio canale un gioco, andate sul sito di Giocoliberia Semola e non lo trovate, chiedetelo lo stesso, anche se è un gioco vecchio di due anni fa, perché magari riesce, se è ancora reperibile, a trovarvelo, ve lo vende e per spese superiori a 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa. Usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Fatevi un giro sul gioco Libri da Semola perché è un negozio eccellente ed ha tutto quello di cui avete bisogno per wargame, pitture e giochi da tavolo. Io ancora una volta ringrazio Ravensburger e penso veramente che sia uno di quei giochi carini, semplici, che potete mettere al tavolo e far giocare tutta la famiglia, anche i vostri figli o magari qualche nipotino o qualche parente, ve l'ho detto, veramente molto giovane. In vista di Natale, per aprire una piccola patentesi, potrebbe essere un regalo veramente divertente e tra l'altro anche privo di ogni forma di violenza e molto educativo. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!